Oltre un miliardo di euro di fondi pubblici destinati a strada dei parchi, questa la somma segnata nel progetto Next Generation Italia, volto alla ripartenza post-pandemica sfruttando per la maggior parte fondi europei. La somma è stanziata per la manutenzione delle A24 e A25, il cui soggetto attuatore è il concessionario, ovvero la Toto Holding. Il gruppo è attualmente sotto accusa a seguito di una recente indagine della Guardia di Finanza Teramana, secondo cui dal 2009 ad oggi strada dei parchi non ha provveduto alla manutenzione ordinaria sulle parti strutturali dei viadotti, gravemente compromessi, mentre ha provveduto alla manutenzione straordinaria anni dopo i tempi limite, cioè quando i lavori sono stati poi finanziati dallo Stato. E ora la manutenzione sarà nuovamente a carico del pubblico, così come denuncia il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo. Io lancio l'allarme, i parlamentari abruzzesi, se esistono la regione, gli enti locali, le altre forze politiche, chi sta al governo, cosa dicono? È il caso che regaliamo un miliardo e passa a Toto, che ci ha fatto pagare i pedaggi più alti d'Italia facendo ammalorare le nostre autostrade? Io credo che sia assolutamente una vergogna. Per l'esattezza un miliardo e 150 milioni, un premio per la mancata manutenzione, dice Cerbo, assegnato probabilmente dal ministro De Micheli. Nel progetto non è specificato per quali opere dovranno essere utilizzati questi fondi, ma seppure fossero destinati a lavori che nulla hanno a che fare con gli obblighi di concessione, che quindi non dovrebbero ricadere su strada dei parchi, allora in questo caso occorrerebbe istituire una pubblica gara d'appalto europea, procedura questa che non è stata avviata. Noi siamo per la revoca della concessione autostradale e per il ritorno a una gestione pubblica dell'autostrade. Nel frattempo anche quelli che sono per la gestione privata evitino che la comunità nazionale venga derubata sistematicamente come è accaduto in questi anni.